Ma chi sono quanti in generale? Dai, all'esclusivo io. Ma qua non si muove noi per qualche cosa. Chi sta faranno qua solo io, solo io ci sono. In tutte le cittadini. No, perché qua io ho la forza di fare determinate cose perché la persona che distribuisce qua è una sola. E da una sola, l'esclusivo è solo mia. Perciò altri cristiani non c'è niente. Non c'è buono. A me nemmeno ci trovano ma qualcuno nella casa in bar ci sparano la boccona per davvero. Mi sono riuscito ieri dalle camere a casa. Ho potuto dichiarare? Dichiarato, cosa significa che la fai a fare? No, allora dichiarato Dichiarato significa essere diciamo all'interno della famiglia Marfis. E tu fai una punciuta. La punciuta avviene che tu avviene un baciozzo. Un baciozzo a destra ci ha dichiarato la punciuta. Perché io non andavo a fare a loro come un baciozzo. E lui ti battezza e ti mette da cava nuzza. Da domani non ti fa la missa. Ti dici, tu giuri che sei fedele alla famiglia di non tradire la coppola rocazzo ti fa il cuore e tu colci le sangue sopra la fotografia e la farà un nuzzo. La fotografia ti appoggia sopra la mano e te la farà bruciata sopra la mano e ti resta a papolo. E poi ti devono presentare a tutti i famigli mafiosi di Catania perché tu fai parte di quella organizzazione. Giusto? Ti hanno presentato, certo? Ti hanno presentato. Ti hanno presentato. Ti hanno presentato. Ti hanno dichiarato. Punto. Pugli. Pugli stipendio. Punto. E comunque sia quando vai in un bosco puoi fare un numero della famiglia e se chiamano la famiglia ci dicono che è cuocci. Allora, quando ti fai cominciare a chiesti c'è Cosa Nostra. No. E come no? No, è Cosa Nostra però non si è dichiarato. No, ti sto parlando di con la punciuta. Con la punciuta, si. Tu cammini dalla macchina e poi fottato il sogno e le persone che ti presentano. Vabbè, ti presentano Ti fanno capire che c'è Cosa Nostra in fondo, c'è Cosa Nostra. E che buono? E finisci Cosa Nostra. Che Cosa Nostra? E che Cosa Nostra. C'era una compiuta, una compiuta, non c'era giù che la Cosa Nostra.